Eccoci qua, con il mio computer andrò ad analizzare in prima istanza un suo video laterale esterno. Qua iniziamo ad andare ad approfondire alcuni temi come appunto la bracciata stessa. Prima voglio lasciarlo girare in maniera libera, a velocità naturale, così che possiamo poi successivamente andare ad approfondire. Sicuramente la prima cosa che possiamo notare da un video del genere è la sua altissima frequenza di bracciata. Ecco questo è uno dei punti di forza assoluti di Greg, uno degli elementi che da sempre lo hanno caratterizzato. E' uno dei punti su cui fa maggiormente leva, ma andiamo ad analizzare gli aspetti un pochino più biomeccanici. Come vediamo una notata come solitamente viene definita un po' scomposta. Ecco oggi voglio andare un po' a scardinare anche queste cose qua, perché magari si può esserlo ma è veramente incredibilmente efficace.